di culture diverse dalla nostra, culture anch'esse portatrici di valori importanti con le quali i carabinieri si confrontano quotidianamente. Per aree omogenee, comprendenti più paesi, sono stati individuati autori di riconosciuto talento e scelte opere di forte testimonianza. È stata preziosissima la consulenza di Bartolomeo Pietro Marchi, direttore del Maxi Arte di Roma e raffinato conoscitore dell'arte contemporanea che quest'anno ha affiancato Filippo Guidaverio, carabiniere benemerito, insieme a noi nell'intero ciclo pienale. Mese dopo mese viene richiamato un tema dal valore universale, espressione dei diritti e delle libertà che l'arma è impegnata a sostenere nel mondo insieme alle rappresentanze diplomatiche e, nelle missioni internazionali, alle altre forze armate. Il filo conduttore è costituito dalle colorate e vivide opere del maestro Ugo Nespolo, tra i migliori artisti contemporanei. Dalla copertina, un album di famiglia da rappresentare tutti i 110.000 carabinieri in servizio nelle tante specialità dell'arma, alle pagine di sinistra di ogni mese, dedicate ai nostri compiti istituzionali, dove, insieme al giudizio artistico di Pietro Marchi sulle pitture a fronte, compare un richiamo ad attività svolte a favore di Paesi dell'Area.